Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Paolo Di Bala è tornato sui suoi livelli col passaggio alla Roma della scorsa estate L'argentino, al netto di qualche infortunio, ha sprigionato tutto il suo talento con la maglia giallorossa, ritrovando se stesso dopo qualche tempo in sordina alla Juventus. La clausola però pesa sul suo futuro e dalla Spagna potrebbero provarci Paolo Di Bala ha immediatamente conquistato Roma e il cuore dei tifosi giallorossi, spazzando via ogni dubbio su quella che poteva essere la sua condizione dopo gli ultimi tempi bui allo Juventus Il rendimento è da top ma la clausola per l'estero del suo contratto resta per ora bassa Un pericolo per i capitolini.Calciomercato Roma, Di Bala al centro della scena, pesa la clausola L'estate scorsa ha rappresentato un altro punto di svolta della carriera di Paolo Di Bala, che ha salutato la Juventus tra le lacrime per fine contratto, ritrovando sorriso, condizione e motivazioni alla Roma, dove sin da subito è stato accolto da vero eroe I numeri dell'attaccante argentino, al di là di un periodo di infortunio, sono ottimi e José Mourinho se lo coccola costantemente Il valore tecnico del Clas 1993 è indiscutibile ed è tornato a brillare sotto gli occhi di tutti a suon di giocate da fenomeno, gol ed assist Il livello messo in campo da Di Bala è nuovamente da top e cozza con la clausola rescissoria molto bassa presente nel suo attuale accordo con la Roma Si parla di soli 12 milioni di euro per l'estero, che chiaramente invitano i top club continentali a farci un pensierino, visto l'enorme valore del calciatore Nella capitale sono molto contenti delle prestazioni del fenomeno sudamericano, e anche Di Bala sembra a suo agio e felice alla corte di José Mourinho Una big in particolare potrebbe però essere dietro l'angolo.stando a quanto evidenziato da Diario Gol Come il Barcellona avrebbe bisogno di rinforzi in attacco e viste le difficoltà di trovare calciatori di livello a buon prezzo, potrebbe trovare proprio in Di Bala un'occasione d'oro da provare a sfruttare Le uniche garanzie offensive di Xavi restano Dembele e Lewandowski, mentre i vari Rapina, Ansu Fati e Ferran Torres non arrendono sempre a dovere In questo quadro va a collocarsi l'interessamento per Paolo Di Bala soprattutto nel caso in cui la Roma non riuscisse a mettere mano al contratto della Hoia aumentandone o rimuovendone la clausola rescissoria Il prezzo attuale fa infatti dell'ex Juventino un'occasione più unica che rara per il Barça Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video I can't wait to kiss the sun